A uccidere Ilaria Pagliarulo, dopo una settimana di calvario in rianimazione, sono state le complicanze delle ferite per due colpi di pistola, uno all'addome e l'altro al torace, colpi esplosi dal convivente della ventenne di Statte, morta domenica notte all'ospedale di Taranto. Cosimo De Biaso, 24 anni, sorvegliato speciale con precedenti penali, dopo un litigio avrebbe sparato alla ragazza una prima volta, colpendola a un rene. Poi le avrebbe sparato ancora il giorno dopo, puntando questa volta al torace. Ma, secondo il legale dell'uomo, l'avvocato Maria Letizia Serra, a premere il riletto la prima volta, sarebbe stata la stessa vittima, Ilaria. Ilaria che per tutta la notte, temendo che la violenza dell'uomo si sfogasse su altre persone, ha tamponato la ferita senza chiedere aiuto. Il giorno dopo, il litigio è continuato e De Biaso ha sparato ancora, colpendo la ragazza al torace. A soccorrerla, il mattino seguente, dopo il secondo proiettile, è stata la madre della ragazza, che abita nella stessa villetta dove Ilaria, da cinque mesi, viveva con De Biaso. L'uomo ha inseguito e aperto il fuoco contro l'auto della suocera, mentre lei cercava di seguire l'ambulanza nella corsa verso l'ospedale. De Biaso, ora in carcere, è accusato di omicidio, tentato omicidio nei confronti della suocera e porto di arma abusiva. Ha provato anche a nascondere la pistola, una calibro .22, negli slip. La sua difesa ha chiesto al giudice per le indagini preliminari di far visitare l'indagato da un neuropsichiatra. Secondo l'avvocato Serra, non è escluso che la prima ferita, Ilaria, se la sia provocata da sola, visto che il suo assistito ha dichiarato di aver sparato una sola volta il lunedì mattina. L'autopsia non ha chiarito quale dei due colpi sia stato determinante per la morte di Ilaria.